Intanto in azione topping, Rivers, ancora Rivers, lo attacca Baresi, palla al limite dell'area pericolosamente, tiro e gol! Gol del Costa Rica ad opera di Rivers. Rivers ha segnato al trentatresimo del primo tempo e si è verificato proprio quello che temavamo, eccesso di confidenza forse da parte dei nostri, il fatto sta che la nostra selezione olimpica subisce il primo gol, vedete, sbandamento dei nostri, palla che arriva a Rivers, secco il suo tiro sull'angolino più lontano, non c'è nulla da fare per Zenga, gol dunque di Rivers. Rivediamo ancora, vedete che Bierkovo d'anticipa, però sono abbucchiati in tre i nostri e libero Rivers, il cui destro va a finire proprio sull'angolino più lontano.